Sono in vigore da oggi, riguardano solo le auto alla prima immatricolazione, premiano chi sceglie l'ambiente e tartassano chi inquina di più. Innanzitutto c'è una premessa da fare, cioè che questo bonus viene accordato all'acquirente per il tramite del venditore solo nel caso in cui l'auto nuova acquistata abbia un valore di listino inferiore a 50.000 euro. Posso rottamare con un'auto 0,1 euro, 0,1, 2, 3 o 4, allora il beneficio va dai 2.500 a 6.000 euro, sempre sulla fascia dell'inquinamento presunto della nuova autovettura che acquisto, che deve essere un'autovettura di classe M1, cioè adibita al trasporto di persone fino a 8 posti. 6.000 euro quindi di eco bonus per un'auto pochissimo inquinante da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro, 2.500 con rottamazione per CO2 da 21 a 70 grammi per chilometro. Se non rottamo l'incentivo è minore, si va dai 1.500 per veicoli inquinanti 21-70 CO2 grammi per chilometro ai 4.000 invece dei 6.000 previsti per quelli inquinanti 0 o 20. Il concessionario venditore anticiperà tra virgolette questo sconto, lo potrà compensare solo se ha un'imposta da versare, perché essendo un credito d'imposta se non c'è la capienza non lo recupererà. Fin qui l'eco bonus, ma l'eco tassa? L'eco tassa si applicherà per acquisti di auto inquinanti superiori a 160 grammi di CO2 per chilometro, con degli scaglioni ben definiti che vanno da 1.100 euro fino a 2.500 euro. Il versamento dovrà essere effettuato dall'acquirente il giorno stesso dell'immatricolazione. Il criterio, come abbiamo detto, è il punto V7, quindi tutto ciò va ponderato sui modelli e sull'emissione del CO2. Il problema è che il CO2 è un indicatore efficace ed efficiente per stabilire che un'auto inquina poco? Diciamo di sì, però non è l'unico forse, perché sappiamo che l'anidride carbonica è dannosa all'ambiente, ma molto più dannoso forse è il PM10, cioè le polveri sottili, e questa cosa qui non viene certamente trattata. L'anidride 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 L'anidride